buonasera a tutti e benvenuti alla night session di venerdì 5 gennaio sono le 22.43 e abbiamo fatto tanta lateralità facendo salita, discesa, salita eccetera eccetera non è che siamo andati a fare cose particolari però guardate bene questo grafico perché sono indicate con un colore differente determinate cose ok? guardatelo tutto molto bene siamo sicuri di essere su un settimanale vincolato a ribasso? perché il tempo scorre e stringe e noi continuiamo a essere nei quadranti superiori di Fibonacci invece che iniziare a scendere va bene, non è che sia spaventato della cosa anzi, ci sono, bastano due candele come queste e si torna qui sotto in un attimo ma nella realtà di fatti, riguardando bene la centratura a livello daily ho notato che a parte che come vi dicevo ce ne possono essere 450 differenti per cui ecco, non è il massimo della vita fare trading così però, dato che è più semplice viaggiare passo a passo swing a swing, movimento a movimento quando mi rendo conto che la situazione può essere leggibile in modi differenti matematicamente parlando a quel punto semplicemente continuo a ragionare di breve periodo anche perché se c'è una cosa che è serenamente comprensibile è l'inverso in questo momento abbiamo a partire dal 2 abbiamo fatto 3, 4, 5, 3 giorni sotto un massimo che ci dicono che può essere partito più di un settimanale di inverso sempre che oltretutto come vi dicevo abbiamo gestito bene a livello di forze non ci siamo fatti prendere la mano da movimenti che poi potevano essere foglieri di perdite viste le possibilità di vario tipo appunto di andare a da una parte all'altra grazie ai volumi abbastanza feriali ancora e a questo raccordo che come vedete è presente come di consueto potenzialmente tra un t-1 è un t-1 ok? bene cosa facciamo adesso? perché come di consueto rispetto alla vecchia ciclica a me interessa solo l'operatività e penso che a tutti interessi guadagnare invece che fare la centratura migliore giusto? poi a ognuno la sua scelta i trader hanno bisogno di guadagnare i filosofi o altro facciano quello che desiderano in ogni caso l'inverso è tutto più semplice d'accordo? qui abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente per aver chiuso a 30 bar il terzo giornaliero inverso ok? qui avete sempre come al solito la leggenda ciclo giornaliero t-3 con la i inverso vuol dire che parte da un massimo sviluppa un minimo e torna sul massimo ho chiesto gentilmente al gruppo premium alle persone che mi confermassero che questo minimo esisteva dappertutto sui maggiori ovviamente exchange perché non esiste un fixing di bitcoin che vi raccontino delle robe che non esistono ovviamente non c'è assolutamente nessun tipo di fixing su bitcoin e quindi essendo questo un buon minimo di ripartenza e avendo qui la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura appunto del terzo t-3 inverso e di tutto un t-1 a tre tempi e da qui abbiamo un ciclo che non può aver chiuso 20 barre e qui inizia ad avere potenziali possibilità di andare in chiusura qui mancherebbe del tempo ancora ok però come vedete abbiamo iniziato prima a superare poi ritornare sulla media mobile rossa questa poi siamo scesi moltissimo siamo ritornati qua siamo andati a rimbalzare su entrambe le medie mobili che stavano per andare in death cross si è girata la media mobile ricordatevi che le medie mobili sono utili se utilizzate in determinati modi che non vi farò vedere ok ma come tutti gli indicatori possono non fare quello che ci si aspetta ovvero la discesa che ci si poteva aspettare con una potessibilità di andare appunto in death cross e ci siamo molto appiccicati di nuovo alla media mobile quando prima invece ci si distaccava per andare a fare massimi e minimi adesso quindi il discorso è come proviamo perché se guardate bene appunto come vi dicevo questo video questo grafico scusate noi abbiamo di sicuro che da qui sta partendo qualche cosa di inverso che però ha fatto una notevole spinta come inizio ed è ritornato parecchio sui suoi passi in realtà siamo siamo finiti qua guardate siamo finiti al 61.8 di ritracciamento rispetto a questa discesa e qui guardate quasi millimetricamente siamo andati a finire sul 78.6 ok però continuiamo ad avere massimi decrescenti per adesso i minimi sono crescenti stiamo formando il classico Q1 dell'analisi tecnica e tutto quello che volete e ci aspettano sabato e domenica che sono due giorni potenzialmente di lateralità per cui riusciremo a chiudere questo ciclo settimanale oppure qui abbiamo chiuso qualcosa in realtà perché la domanda che vi pongo è questa ok non avete ben compreso quello che vi sto raccontando non conoscete cicli e altro basta che digitiate su su qualsiasi browser www.analisievoluta.com ok vi troverete su questo sito basta che clicchiate qui e potete ricevere appunti di analisi ciclica di base gratuiti per passare all'analisi evoluta e purati dalle cose che non funzionano più e basta cliccare qua per arrivarci piuttosto che se vorrete venire a fare trading con me basterà cliccare su questo link ok qui troverete anche la spiegazione di appunto chi siamo di tutto il tempo che continuiamo a trascorrere prima su TradingView e poi su Youtube per parlare di come si muovono i mercati e le criptovalute avete tantissimi video che tornano indietro a oltre 7 anni di esperienze sui mercati in cui mi espongo tutte le volte per raccontarvi se mi aspetto salita discesa o quant'altro e quindi potete vedere tranquillamente quanto valente sia l'analisi evoluta rispetto a tanti altri metodi e quanto invece senti in mente e altre cose non servono assolutamente a nulla e basterebbe andare a controllare su un qualsiasi motore di ricerca per vedere che è assurdo parlare ancora adesso di determinate cose come appunto il sentiment lash rate e tutte queste cose qua ok per il resto vi lascio col dubbio che vi ho insinuato che intanto se non torneremo a scendere rapidamente qui si sarà chiuso qualche cosa e mi raccomando fatevi guidare bene dall'inverso perché quando finiremo questa tra virgolette lateralità ok fatto questo movimento che c'è sui maggiori exchange potremmo comprendere meglio che cosa ci attende nei prossimi giorni e ricordatevi che qua abbiamo fatto un massimo assoluto ok che swing abbiamo violato scendendo perché soltanto facendo training con me potrete saperlo gli altri mi lantano di sapere cosa sono gli swing ma non ne hanno la più pallida idea auguro a tutti una buona serata sono felicissimo di essere tornato all'ovile domani sarò di nuovo appunto in studio e mi occuperò di preparare come di consueto la prossima settimana di trading e finalmente ritorneranno volumi decenti e potremo tornare anzi continuare nella realtà di fatti a rendere il 2024 un anno ancora migliore a livello di performance rispetto alle ottime già avute nel 2023 grazie a tutte le tecniche che stiamo implementando e migliorando buona serata a tutti grazie grazie a tutti